Come ogni anno abbiamo effettuato un'estesa survey per fare un po' il punto della situazione sugli investimenti esteri nel nostro Paese. Emergono sicuramente degli elementi positivi perché il numero di operazioni in Italia sta crescendo, più che raddoppiato rispetto alla situazione pre-Covid, anche se ci sono dei margini di miglioramento molto significativi, perché la quota complessiva che attraiamo in Italia è il 4% del totale degli investimenti che vengono fatti in Europa, c'è un ampio margine di miglioramento e ci sono gli stessi investitori a mettere in evidenza quelli che possono essere gli elementi su cui insistere a lavorare anche dal punto di vista di policy making per poter accelerare questo tipo di percorso. Cito tre elementi che mi sembrano particolarmente interessanti. Continuare ad investire comunque sulla protezione e sulla valorizzazione del tessuto delle piccole e medie imprese in Italia che sono comunque motore anche di sviluppo e sono anche particolarmente apprezzate dagli investitori internazionali come possibili partner anche per progetti di crescita. Lavorare sull'innovazione, favorire l'innovazione nel nostro Paese, anche questo è un elemento che è stato un posto molto seriamente in evidenza, spesso e volentieri cercando anche di trovare un trade-urion dal punto di vista di ricerca e sviluppo su logiche di filiera per poter far crescere chiaramente anche la valenza del nostro territorio dal punto di vista produttivo. Terzo aspetto, quello delle città. Sembra strano parlare di città nell'ambito di quelli che sono gli investimenti esteri nel nostro Paese, ma le città possono giocare un ruolo essenziale. Quindi gli investitori ci invitano a continuare a far crescere il livello di dotazione infrastrutturale nelle città, la qualità della vita nelle città. Riteniamo che sia un punto interessante perché normalmente parlando di investimenti internazionali si pensa a un ruolo guida della pubblica amministrazione a livello centrale, ma in realtà è molto importante anche il ruolo degli enti locali da questo punto di vista in termini di capacità di accogliere i progetti anche con procedure snelle, efficaci e tempestive. Noi dobbiamo spingere sulle leve su cui siamo forti, che sono valore delle persone e qualità, però dobbiamo spingere su altre cose, per l'attrattività che sono le infrastrutture e soprattutto le regole. Ci sono molti settori che vivono di regole, quindi abbiamo bisogno di regole chiare, regole durature e regole che facilitino gli investimenti esteri e nazionali e non ci dimentichiamo che l'Italia è un grande Paese anche di imprese nazionali.